Torna nella zona tradizionale dell'Eden e del centro di Arezzo la Fiera del Mestolo. Quest'anno un'edizione con 229 banchi che torna alla versione normale, quella cioè pre-Covid. Ci sono davvero tante tipologie di mercato, dagli oggetti per la casa, l'abbigliamento, la bigiotteria, ancora tanti oggetti che vengono venduti anche dai classici imbonitori, immancabili in questa situazione. La partenza è stata subito importante come si può vedere anche dalle prime ore del mattino. Il meteo aiuta e dunque da oggi fino all'11 come da tradizione per tre giorni ad Arezzo sarà Fiera del Mestolo. Una piccola annotazione, sabato mattina questa iniziativa che è tanto attesa e che chiude le celebrazioni, le feste, gli eventi aretini di settembre è caduta in concomitanza con il mercato. Qualche piccolo disagio, forse una concomitanza che si poteva evitare ma ovviamente il mercato è altrettanto atteso e dunque facciamo festa anche per il ritorno di un'iniziativa davvero tanto amata dagli aretini.